ciao ciao a tutti io sono liga9 come sapete gioco nel donarione come vi ho detto e niente oggi nella prima volta di campionato abbiamo vinto tra l'altro 8 a 1 ma c'è stato un problema ho giocato benissimo ma nell'ultimo minuto è successo questo in pratica io ho rubato la palla al mio avversario lui di potenza mi ha dato una spinta mi ha fatto cadere è caduto con lui perché gli ho fatto un sgambetto di tacco io c'avevo il braccio piegato al contrario mi è caduto addosso e non mi sono rotto il polso ma c'è stata una contusione comunque dovrò stare così per un bel po' perché fa veramente male e niente probabilmente non ci sarà se potrò ancora fare i video in questi giorni ovviamente penso di sì perché comunque per fortuna non c'è fatto niente a destra perché si è fatto qualcosa nel mio braccio debole quindi c'è ora di guardare il tempo adesso presto e niente ho fatto questo mini video per dirvi questo che è successo E niente Mi chiedo solamente Di iscrivervi al canale E niente Cerro di riprendermi più presto Niente Bella ragazzi